La spedizione del rugby Benevento verso la Francia è pronta, Presidente, si va a Serignan, insomma una visita ai francesi era dovuta? Sì, diciamo che ogni 3-4 anni la visita gliela dobbiamo fare, sennò poi loro dicono che siamo scostumati e quindi noi ricambiamo le loro visite e ci andiamo pure noi là. Si parte con Andel 14, Andel 16, un premio per queste due categorie? Eh sì, è un premio, i ragazzi fanno esperienza, sono le categorie che più si approcciano al rugby di un certo livello e quindi è giusto che vengano loro a fare questa esperienza, poi vedremo in futuro di portare pure i più piccoli, anche se il viaggio è troppo lungo per i più piccoli. Insomma, 5 giorni in una delle parti del rugby sarà una bella avventura? Eh sì, sarà una bella avventura, sarà una bella avventura reggibistica per loro, sarà una bella gita anche per loro che gli rimarrà come ricordo negli anni. Avventura che noi di 8 Channel seguiremo e vi mostreremo interamente giovedì prossimo alle 21 nel Teatro dei Campioni. Tanto loro ci salutano, si parte per la Francia ragazzi! Salutate! Salute! Salute!